Il robot da Vinci sta effettuando una prostatectomia su un 65enne pratese sapientemente guidato da Graziano Vignolini, coordinatore della chirurgia urologica del Santo Stefano di Prato. Le nostre telecamere entrano nella sala operatoria dove qualche mese fa è stata montata questa innovativa piattaforma tecnologica in presa visione in attesa dell'acquisto vero e proprio tramite gara. Un salto tecnologico importante per l'ospedale pratese e tutta la Toscana Centro reso possibile dall'arrivo a inizio anno di Vignolini già esperto del robot assistito per la sua esperienza al Policlinico di Careggi dove tale macchinario è operativo da tempo. I vantaggi per i pazienti sono numerosi. Degenza ridotta, meno dolore, minor rischio di infezione e di incontinenza nel caso di intervento alla prostata. Ma non solo. Solo il comfort del paziente nel momento in cui accediamo in cavità addominale con dei piccoli tagli ma soprattutto dei vantaggi dal punto di vista sia funzionale che prettamente oncologico. La possibilità di muovere le braccia a oltre 720 gradi permette un ottimo approccio a qualsiasi tipo di patologia. Dai primi di febbraio a oggi sono già stati effettuati una cinquantina di interventi urologici tra prostata e reni e da poco l'uso è stato esteso anche a interventi di otorinolaringoiatria e di chirurgia generale. È uno degli obiettivi dell'azienda allargare le cure con tecnica meno invasiva a tutti i cittadini andando a garantire un servizio sanitario e di chirurgia all'avanguardia per quelli che sono gli standard europei e internazionali. Da Vinci opera al Santo Stefano al servizio di tutta la rete ospedaliera. È in corso la formazione del personale di tutti gli ospedali. Le richieste sono numerose e c'è già una lista d'attesa di decine di interventi. Chiaramente l'offerta è per tutti i cittadini dell'US Toscana Centro e quindi è un'attività in rete che facciamo con i chirurghi delle specialistiche interessate e sono interessati i chirurghi di tutta l'azienda così come è possibile la reclutazione dei pazienti che abitano nell'intera area dell'azienda US Toscana Centro.